Oroscopo del giorno, mercoledì 17 novembre 2021 Ariete Amore, problemi in arrivo, già da oggi potrebbero esserci delle discussioni pesanti con la propria dolce metà. Se siete single non aspettatevi una giornata troppo favorevole per i nuovi incontri. Venere non vi aiuterà. Lavoro Tutto tranquillo sul lavoro, probabilmente non avrete una grande voglia di fare e di impegnarvi. Toro Amore Questo mercoledì di novembre sarà un giorno molto buono per i sentimenti, a prescindere dal tipo di rapporto. Buone nuove e splendide emozioni sono previste per oggi, sia per i single che per i quali già impegnati. Lavoro Ottima giornata anche sul posto di lavoro. Potrebbero arrivare novità particolarmente interessanti. Gemelli Amore Questo mercoledì del mese sarà un giorno tranquillo per i sentimenti. L'umore dovrebbe essere buono, ma nonostante questo non ci saranno grandi novità per l'amore. Tutto proseguirà senza troppo movimento. Lavoro Occasioni da valutare, occhio, perché alcune saranno da prendere al volo. In bocca al lupo, a voi. Cancro Amore Non sarà una giornata troppo incoraggiante, perché venere non sarà in una posizione troppo importante. Nonostante ciò, sarà un mercoledì buono e non si escludono nuovi incontri per chi è single e vorrebbe provare nuove emozioni. Lavoro Per oggi sono previsti dei colpi di fortuna, delle novità per i progetti o per il vostro percorso professionale. Leone Amore Giornata piuttosto difficile, perché non vi sentirete al top. L'umore e le energie saranno basse e potrebbero influenzare in maniera negativa la vostra relazione di coppia, oppure un nuovo rapporto da intraprendere. Lavoro Sarete un po' stressati e purtroppo le stelle non vi aiuteranno per niente. Fate molta attenzione ad ogni cosa. Vergine Amore Questa sarà proprio una buona giornata, in cui il mood sarà piuttosto positivo. Attenzione però ad alcuni rapporti personali, che molto presto potrebbero inclinarsi. Sono in arrivo problemi, ma soprattutto tante discussioni. Lavoro Molto meglio sul lavoro. I prossimi giorni dovrebbero essere particolarmente fortunati ed energici. Avanti con impegno e forza di volontà. Bilancia Amore Se non state affrontando un buon periodo con il partner, questa non sarà affatto una buona giornata. Le stelle non vi aiuteranno, ma anzi potrebbero scaldare ancora di più la situazione tesa. Occhio ai nervosismi e alle discussioni. Lavoro Il piano professionale sarà invece abbastanza sereno. Non avrete imprevisti. Scorpione Amore La luna di oggi sarà contraria, quindi il buon umore potrebbe mancarvi. Questo vale a dire che non sarà un mercoledì di metà mese troppo sereno. Un po' di agitazione potrebbe avvertirsi in amore e nelle nuove conoscenze. Lavoro Discorso molto simile sul lavoro. Occhio ad un leggero nervosismo che potrebbe influenzarvi. Tagittario Amore Questa giornata sarà una delle più tranquille della settimana e potrete stare sereni anche voi. Godetevi adesso il rapporto di coppia o una nuova conoscenza, perché più in là inizieranno ad esserci numerosi problemi relazionali. Lavoro E tranquilla sarà anche la giornata professionale. Potrete muovervi bene in ufficio tra i vari compiti di lavoro. Capricorno Amore Bellissimo il mercoledì di novembre per i cuori solitari che hanno tutte le buone intenzioni di fare un interessante incontro. Ma la giornata potrebbe riservare sorprese pure a chi è già impegnato in una storia. Lavoro Piccole soddisfazioni per oggi, pure sul piano professionale. Potrete aspettarvi qualcosa di buono. Acquario Amore Oggi potrebbero esserci un po' di tensioni e da domani purtroppo le cose potrebbero andare ancora peggio. Sarà quindi molto importante stare attenti per non avere troppi problemi con i rapporti e le relazioni. Lavoro Un po' di nervosismo dovrebbe farsi sentire pure in ufficio. Anche qui ci vorrà la giusta calma e pazienza. Pesci Amore Venere sarà in una posizione abbastanza interessante. Tenetevi pronti a sfruttare le stelle per godervi i sentimenti e le persone che sono davvero importanti per voi. Belle novità potrebbero arrivare per i single. Lavoro Stelle ottimali anche per i progetti e le idee professionali. Possibili occasioni e opportunità per oggi. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie